Siamo arrivati agli sgoccioli del secolo 400. Nel 1443 a Napoli Alfonso d'Aragona entra in vincitore. Il re è molto affascinato dalla cultura umanistica, crea una grande biblioteca ma non universitaria. È una cultura umanistica che ha più che altro un ruolo elitario. Il re esume i suoi emblemi dal ciclo medievale arturiano e il medaglista tartogotico Pisanello esegue qui alcune medaglie. Inoltre affida ad artisti spagnoli e catalani come Guillain Segrera delle commissioni architettoniche. Qui a Castelnuovo di Napoli, costruì secondo le linee antico-romane degli archi di trionfo, è evidente la volontà di recuperare l'antichità per legittimare il potere del sovrano. Ci sono molti stili e una disorganicità generale a Napoli perché c'erano diversi scultori, come per esempio il dalmata Francesco Laurana, questa è Eleonora d'Aragona, e Gaggini. Gaggini opera soprattutto in Sicilia e usa repertori del linguaggio locale, soprattutto lombardo. Laurana, dette un contributo a Castelnuovo e seguendo l'esempio di Piero della Francesca e Antonello, una bellezza molto aulica e levigata come in questo ritratto in marmo. Gli ultimi anni del secolo vedono un'alleanza con Lorenzo il Magnifico e anche un ingresso delle formulazioni fiorentine, per esempio Cappella Piccolomini, Cappella Toledo e Cappella Mastroianni a Terranova, nella chiesa di Santa Anna dei Lombardi. Queste sono state eseguite da Rossellino e da Maiano. Nella Cappella Piccolomini, qui, abbiamo la sepoltura di Maria d'Aragona. In più, fecero costruire la villa di Poggio Reale, da Giuliano da Maiano e Francesco di Giorgio la terminò. Qui c'è una progressiva conversione rinascimentale, tanto da fornire poi modelli già nel Cinquecento. Riprende il tipo di villa antica o castello medievale e una serie di funzioni come rappresentanza e anche svago aristocratico delle corti di fine secolo. L'instabilità che c'era in questo periodo concentrò gli sforzi sulle opere militari, ampliando la cinta muraria e creando degli accessi alla città che erano funzionali alla difesa, tranne la porta capuana che funzionava più che altro da arco di trionfo. Antonello da Messina è molto importante perché si accosta alle tematiche rinascimentali di Piero della Francesca o da Carton. Insieme agli agganci fiamminghi trasmette una versione più accettabile delle ricerche prospettiche. Come vediamo nel Politico di San Vincenzo Ferrer, che è di Colantonio. C'è uno studio qui dello spazio molto calcolato e convincente. Antonello vede questi esempi. Lui è il rappresentante più alto di questo incontro di stili e di scuole che si ebbe nel regno di Napoli. Lui domina le radici italiane e fiamminghe della pittura. Lo vediamo nel Salvatore Mundi del 465 o nella Crocifissione, che ora è a Londra. All'inizio ha una cultura meridionale che impara a Napoli, presso Colantonio, poi viene approfondita in direzione fiamminga, ma anche italiano rinascimentale, grazie allo studio delle opere che c'erano a corte e ai molti viaggi che fece. Abbiamo la Madonna di Salting, Madonna Salting, con grandi finestre luministiche, trasparenza e profusione di gemme e colori bruciati alla maniera fiamminga. Subito diventò molto famoso per i ritratti. In Italia era diffuso il ritratto di matrice classica con il profilo, mentre Antonello adotta la posizione fiamminga introdotta da Van Eyck di tre quarti. È molto attento all'umanità e alla psicologia del personaggio. Abbiamo due ritratti d'uomo in confronto, Cristus e Antonello da Messina. Entrambi hanno una buona impostazione geometrica e molta cura dei particolari. Altri ritratti li fece in Sicilia. San Gerola Monello Studio invece è una traduzione di italianità ed elementi fiamminghi. Ci sono molti dettagli e le fonti di luce sono molte. Tra l'altro questo santo è anche iconograficamente diverso, perché non è più un ermita in penitenza, ma uno studioso con i libri e il suo scrittorio. Qui vediamo il leone. C'è un grande gioco luminoso, quindi, che fa agire la luce in concomitanza con la prospettiva, confluendo nella figura del santo. Anche i singoli oggetti sono molto curati, ordinati, secondo il loro valore volumetrico. Quindi Antonello introduce a Venezia e a Napoli, scusate, e anche a Venezia più tardi, questa sintesi luminosa, conobbe Piero della Francesca e Giovanni Bellini. Di Giovanni Bellini vede la pala di San Cassiano. Tutte le opere di questi anni risentono di queste influenze, come per esempio anche il San Sebastiano, dove abbiamo prospettive geometriche, ma anche un grande uso del colore. Qui c'è un uso del cosiddetto sotto in su, cioè un punto di vista molto ribassato per evidenziare la figura in primo piano. La figura è molto tornita e gli scorci sono perfetti. In più c'è un uso della quotidianità dei particolari. Il pittore purtroppo in Sicilia non ebbe molto seguito perché gli artisti locali riprodussero, diciamo, gli schemi iconografici senza offrire nuove soluzioni, come era sua abitudine. A parte Marco Costanzo, che in questo San Gerolamo si impegnerà al punto di vista ribassato e agli effetti luminosi. L'eredità vera di Antonello viene raccolta a Venezia. La provincia del Regno Aragonese aveva un immutato assetto sociale, quindi una feudalità agraria poco aggiornata, mentre la corte di Napoli aveva un ruolo accentratore, ma purtroppo non stimolò dialettiche con altri stati. Abbiamo delle costruzioni, come per esempio il Palazzo dei San Severino, costruito da Novello di San Lucano, un architetto locale nel 1470. Sopravvivono delle forme gotiche o spagnoleggianti in architettura, come vediamo nel Palazzo Caetani, ispirati ai patios spagnoli. Gli edifici risultavano ibridi fra caratteri catalani e rinascimentali. Matteo Carnevalieri, invece un altro architetto, introduce proprio moduli rinascimentali, come nel cortile di Palazzo Abatellis. Gli elementi di origine spagnola, qui come la scala, vengono occultati per dar maggior rigore. Forse fu anche l'architetto di Santa Maria alla Catena, questa chiesa di Palermo. Ci sono molti fattori anticlassici, che però nell'insieme danno una concessione unica, molto monumentale, che può ricordare Santa Andrea di Mantova. Venezia era rimasta abbastanza isolata, legata a una cultura tardogotica e greco-bizzantina. Comincia perciò ad aprirsi verso la metà del 1400. I mercati orientali rimasero comunque di predominio veneziani, quindi c'erano molti scambi anche artistici con l'Oriente. I veneziani, nell'espandersi verso l'entroterra, erano orgogliosi della loro originalità culturale, ma anche curiosi verso il Rinascimento. C'erano molti soldi, molte commissioni, oltre a essere appassionati i veneziani, al collezionismo e alle novità fiamminghe. La mediazione tra Venezia e la cultura artistica rinascimentale è più che altro lombarda per quanto riguarda architettura e scultura e padovana per quanto riguarda la pittura. Giovanni D'Alemagne e Vivarini lavorarono nella cappella Ovetari e a Venezia soggiornarono anche Cosmetura e Crivella, oltre a Marco Zoppa. I primi veneziani interessati alle novità padovani furono Jacopo Bellini e i Vivarini. Soprattutto Bartolomeo Vivarini ebbe una svolta mantegnesca, quindi solidi corpi, architetture dipinte, attenzione all'anatomia, panneggi molto taglienti e una chiara logica costruttiva. Come per esempio vediamo nel politico Camorosini. La bottega dei Vivarini sarà accolta con favore in provincia, mentre la committenza più raffinata si rivolge alla bottega di Jacopo Bellini. Queste botteghe avevano anche i figli, quindi Jacopo aveva Gentile e Giovanni Bellini, che lavoravano soprattutto nei teleri, che erano dei moduli di tempera su tela che andavano di moda a Venezia, per la decorazione di scuole ed edifici pubblici. C'era un grande gusto quindi per la narrazione, come vedete la processione in piazza San Marco di Gentile Bellini. Non c'era un concetto di spazio molto unitario, ma ogni singolo frammento era in prospettiva come i gruppi di persone, ognuno dotato della sua logica. Gentile non vuole dare l'idea di un'azione drabbatica, ma di una cronaca puntuale e riconoscibile. Infatti curò molto i ritratti e i costumi di quest'opera. Fu molto fortunato come ritrattista, tanto che fu invitato nel 1479 a fare il ritratto di Mahometto II. Nelle opere più tarde la composizione è più calma e luminosa. Giovanni Bellini uscì da questa visione tardo-gotica e seguì l'esempio di Mantegna. Quindi rappresenta un artista capace di rinnovarsi e di aggiornarsi, senza negare la civiltà artistica veneziana. Poiché figlia di un mondo misto. La trasfigurazione ha un uso della linea molto incisa e asciutta, che segna le forme. C'è un uso del sotto-in-sù per tutto il gruppo di vino, così come si usava a fare a Padova. C'è molta importanza del colore e della luce. Nella pietà vediamo un grande ricorso ai modi fiamminghi. La linea è ancora di stile mantegnesco, per esempio nei capelli, nelle vene, però il colore viene steso in una maniera che fa evidenziare la luce. Ricordiamoci che Antonello da Messina portò l'olio all'uso dei pittori. Van der Weyden fu influenzato da questo patetismo di gruppo. Il parapetto è l'unico limite rispetto allo spettatore. Probabilmente in un viaggio in Italia centrale, nei primi anni 70, incontrò anche l'opera di Piero della Francesca. e abbiamo un risultato di questo incontro nell'incoronazione della Vergine. Cimasa della Pala Pesaro e pannello centrale. Nell'incoronazione di Bellini c'è un grande paesaggio che ritrae la rocca di Gradara, una grande armonia fra architettura, pittura e paesaggio. Usava l'olio e lo introdusse Antonello, come dicevamo prima, in Italia. Su questa base si arricchì moltissimo la sua pittura. La sintesi della bravura prospettica e dei calcoli geometrici è visibile anche in questo quadro. Bellini seguì Antonello nella vitalità luminosa dei suoi quadri, però usando anche un grande senso panico della natura, come vediamo nelle stimmate di San Francesco, dove l'uomo non è più al centro dell'opera, ma fa parte di un mondo ampio, immerso nella natura, avaria e desunta forse anche da studi dal vero. Questo mondo umano e naturale sono intersecati. Qui il soffio divino è rappresentato dall'illuminazione, mentre nell'iconografia medievale c'erano delle frecce, dei raggi che partivano da un angelo. Qui la luce è ciò che è santo, santificato. È una luce spirituale e lo intuiamo anche grazie all'espressione del santo. Quindi una grande armonia. Mauro Codussi è un architetto molto importante che verso la fine del Quattrocento, provenendo dall'entroterra, lavorò a Venezia e conobbe probabilmente le opere di Alberti, Brunelleschi e Michelozzo. San Michele in Isola è opera sua a Venezia ed anche Santa Maria Formosa, che è un'elaborazione quattrocentesca della tradizione veneziana. Oltre a queste due opere realizzò modelli per la città, curando con disegni le procurattie vecchie e la prima risistemazione della Piazza San Marco e Torre dell'Orologio, oltre ad alcuni palazzi. Nel Palazzo Vendramin, Calergi, a Venezia, interpretò il tipo tradizionale di casa veneziana con moduli rinascimentali. Sarà questo modello per le grandi elaborazioni degli architetti cinquecenteschi nella Repubblica della Serenissima. A Firenze, anche se sembra che la situazione sia meno innovativa, c'è un fermento nella cultura e nel gusto dei cittadini. Firenze ebbe una grande diffusione del pensiero neoplatonico diffuso dall'Accademia di Carveggi. In più, c'erano molti scrittori come Picco della Mirandola, Landino e Ficino che avevano questa grande concezione umanistica. Quindi, integrare anima e corpo, natura e umanità. l'uomo padrone del proprio destino. Il centro dell'umanesimo rimaneva tale, però il pensiero neoplatonico immaginava il mondo diviso in sfere concentriche. Da una parte c'era Dio e dall'altra la materia e l'uomo poteva scegliere se elevarsi verso Dio o rimanere nel rango della materia. Questa scelta avviene tramite il sentimento di amore e di bellezza, visto che l'amore è desiderio di bellezza. Questa filosofia collega il cristianesimo alla filosofia pagana, rivalutandola. Quindi saldava cristianesimo e cultura classica. Nelle arti figurative, quindi, ci fu un grande ingresso dei miti, come portatori di verità, riletti o in chiave cristiana o come testimonianza di un'armonia perduta. Lorenzo dei Medici nel 1469 andò alla guida della città. Era figlio di Piero, risistemò Firenze in un grande periodo di pace e di prosperità ed ebbe una grande influenza in campo artistico perché il mecenatismo di opere pubbliche non superò quello di opere private. Da una parte promosse la diffusione della cultura fiorentina sia letteraria sia figurativa inviando presso varie corti italiane artisti molto prestigiosi. Poi si consolidò l'idea di una Firenze come una nuova Atene, faro culturale della penisola. Questo fece nascere il mito della Firenze laurenziana. D'altro lato dal punto di vista più privato era un collezionista un grande conoscitore di classici si circondava di artisti con cui instaurava molti rapporti. Quello laurenziano è un linguaggio molto colto e raffinato tratta i temi mitologici nel loro significato filosofico. Non manca mai un omaggio al Signore o velato o meno nelle opere e quindi diciamo che l'arte si distacca un po' dalla vita pubblica civile e diventa il sogno di un'unità ideale. Nella tavoletta del Perugino con Apollo e Marsia si vede questo intento mitologico. Le citazioni antiche evocano quindi questa classicità come un'unità modo di intendere il mondo misura di spazi con posizione bilanciata. Luca Signorelli è un artista che seguì appunto questi temi neoplatonici come vediamo per esempio nell'educazione di Pan ma anche per quanto riguarda temi religiosi e qui c'è la Madonna col bambino Signorelli del 1490 la bellezza quindi conduce alla perfezione allusioni ai suoni e agli strumenti musicali secondo i letterati di corte Pan che era la divinità etrusca portatrice di pace si era incarnata nella famiglia Medici Antonio del Pollaiolo nelle sue sculture ha una linea molto vibrante e fluida che elabora anche i più piccoli dettagli come per esempio vediamo nella fresco della Danza dei Nudi una grande ricerca sul corpo umano e sul contorno sulla linea di contorno Andrea Verrocchio aveva già lavorato nella tomba di Giovanni e Piero dei Medici con un'inclinazione al naturalismo e alla ricchezza da curativa aggiunge delle rare fatte eleganze e di grandi studi di atmosfera e di psicologia dei personaggi per esempio nei David in figura qui vediamo che l'eroe cristiano è trasformato in un eroe cortese sorridente giovane e vibrante di questo psicologismo farà tesoro Leonardo che era un allievo del Verrocchio Botticelli Botticelli è l'artista che più è legato alla cerchia medicea con immagini di armonia ma del resto pone anche a nudo la crisi del periodo dopo la morte di Lorenzo il Magnifico e in seguito anche alle tematiche savonaroliane e riformiste la formazione di Botticelli si è nella bottega del Verrocchio e poi anche da Filippo Lippi dipinse la fortezza questa era una delle virtù commissionata al pollaiolo dalle arti meccaniche per Tommaso Soderini 1470 il suo corpo rappresentato solidamente con delle linee molto precise fu un linguaggio personale del Botticelli in cui c'era studio per la profondità ma in cui le figure sono quasi disposte in superficie governate dalla luce rispetto a una integrazione con il paesaggio è molto importante il contorno quindi diciamo che c'è un distacco dal dato naturalistico una predominanza delle linee nella Madonna del Magnificat Adorazione dei Magi si cerca di conciliare naturalismo classico e spiritualismo cristiano le figure appaiono qui riflesso come in uno specchio convesso con sperimentazioni prospettiche e anche nell'adorazione dei magi il punto di vista è molto sperimentale significativo perché supera la mediazione fra irreale e irrazionale della prospettiva del primo quattrocento quasi negandola e corrispondente a questa negazione della prospettiva ci fu uno scetticismo proprio sul rapporto fra la forma e la natura in sostanza la verità non si può rappresentare perché si può rappresentare soltanto la verità del mito e quindi si può contemplare la verità ma non rappresentarla abbiamo la primavera qui si sceglie il mito come specchio di verità morali si rappresenta qui le diverse fasi dell'amore che illumina e porta alla contemplazione della verità anche nella nascita di Venere che compose dopo essere tornato da Roma dove era stato inviato ad affrescare le pareti della sistina abbiamo una ricerca spaziale senza troppa profondità chiaro scuro e una linea molto fluida cedevole e importantissima che distingue le figure e i moti la crisi sconvolgerà in veste botticelli alla morte di Lorenzo il Magnifico però questa svolta si può notare anche in opere di altri artisti come per esempio l'operazione della Vergine San Bernardo di Filippino Lippi figlio di Filippo che vede quasi un allungarsi delle figure in uno scenario un po' fantasmagorico negando quindi la razionalità rinascimentale in Grazie.